Sono già 100 le botteghe degli agricoltori di Campania Amica aperte in un mese sul territorio nazionale per garantire ai consumatori prodotti agricoli al 100% italiani provenienti esclusivamente da aziende agricole cooperative. Lo ha annunciato il presidente della Coldiretti Sergio Marini all'undicesimo forum internazionale dell'agricoltura a Cernobbio. Marini si dice soddisfatto di come sta procedendo il progetto di filiera agricola italiana che Coldiretti sta portando avanti sul territorio nazionale. Il progetto devo dire che sta molto avanti, la bottega che sostanzialmente è il livello più avanzato di vendita diretta è un punto vendita in cui i prodotti degli agricoltori arrivano direttamente al consumatore ma in una forma organizzata senza la necessaria presenza del produttore abbiamo iniziato ad avviarle i primi di settembre, siamo arrivati già a 100 botteghe in un mese e mezzo per cui l'obiettivo è di fare una bella rete con qualche migliaio di botteghe in tutto il paese realizzabile. Tra le regioni maggiormente impegnate nella realizzazione della filiera agricola italiana anche la Lombardia dove, come ricorda il presidente della Coldiretti Brescia Ettore Prandini farmer shop, bottega a chilometro zero e mercati degli agricoltori continuano a crescere. In Italia si sono aperte 100 botteghe di campagna mica solo in Lombardia se ne sono aperte 10 con una grande possibilità di sviluppo ulteriore nei prossimi mesi con un avvicinamento ulteriore dai farmers market a una nuova forma di commercializzazione del prodotto agroalimentare che vede protagonista ovviamente i prodotti agroalimentari delle nostre aziende agricole e con una certezza per il consumatore nel trovare all'interno delle botteghe di campagna mica prodotti che hanno la garanzia assoluta della provenienza, quindi una provenienza italiana.